E' iniziata alle 10 e mezza di questa mattina qui all'ufficio territoriale di governo in prefettura a Campobasso la riunione che era stata richiesta nei giorni scorsi dalle organizzazioni sindacali dei medici per valutare assieme al prefetto nella sua funzione di mediatrice della difficile situazione che si è creata nella sanità molisana la carenza di medici nei presidi ospedalieri della regione. Alla riunione sono presenti naturalmente tutti i rappresentanti delle sigle sindacali, il commissario alla sanità Angelo Giustini, il commissario dell'Asterem Maria Virginia Scafarto e ovviamente il prefetto. Un incontro che è durato oltre due ore e sono stati diversi anche gli scontri tra le parti per una situazione che è naturalmente visibilmente difficile e che rischia ovviamente di pesare soprattutto sulle spalle degli utenti, oltre che dei medici che sono pochi nelle corsie dei nostri ospedali e molto spesso sono costretti a fare prestazioni aggiuntive. Vediamo però come è andata la riunione. In realtà è definito che c'è stato un raffreddamento delle procedure minacciate di sciopero e dalla settimana prossima cominceremo a fare un calendario di incontri con le rappresentanti sindacali. Assente però la Regione. Dottor Massimo Peccianti, allora come è andato questo incontro? Questo tentativo di conciliazione ha avuto un esito positivo sulla carta, in realtà non abbiamo risolto niente, però ci sono buone speranze che organizzando dei tavoli insieme all'azienda, insieme alla struttura commissariale e possibilmente anche con l'intervento della parte politica che come sappiamo dovrà nominare un nuovo direttore. generale potremmo riuscire a risolvere qualche problema. Lo speriamo evidentemente per noi utenti della sanità ambolisana. Dottor Dilello, come è andato questo incontro? Qual è l'esito? Abbiamo senz'altro trovato delle aperture e dobbiamo ringraziare il prefetto che ha fatto questa opera di mediazione e di conciliazione. Riguardo alla domanda che era stata fatta se ci sarà uno sciopero, io quello che dico semplicemente è che non è che ci sarà bisogno di scioperare se non si trovano delle soluzioni nell'immediato. Grazie. 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 Grazie a tutti.